Hai sempre avuto il sogno di avere dei denti dritti ma poi hai abbandonato l'idea perché non volevi quegli attacchi metallici brutti che si vedevano a 100 metri di distanza? Ti do una buona notizia, oggi gli apparecchi sono invisibili, sarà un segreto fra te e il tuo dentista. Facciamo tutto con gli allineatori trasparenti. La tecnica per andare a ridrizzare i denti è molto semplice, vanno portate delle mascherine trasparenti che sono degli allineatori invisibili che una volta ogni due settimane il tuo dentista ti andrà a cambiare e che sono molto facili da calzare, assolutamente invisibili e permetteranno di raddrizzare i tuoi denti in pochi mesi. Grazie 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 Grazie